Musjart Quartz Musjart Quartz è indicato non solo per finiture di facciate all'esterno, ma anche per supporti delle pitture Phonix Musjart o altre pitture decorative. Grazie alla sabbia di quarzo possiamo preparare una superficie di lunghissima durata. Possiamo applicarlo con diversi attrezzi, con pennello, spatola, rullo o pistola a spruzzo. È usabile come supporto o finitura in colore bianco o in colore a piacere. Esercitando una pressione calibrata con una spatola sul Musjart Quartz applicato, possiamo semplicemente ottenere una superficie di effetto pietra o granito.